Il mio sogno musicale lo inseguo da quando ero ragazzino. Il mondo del lavoro purtroppo qua in Italia è morto, nel senso che lo hanno distrutto. Sarebbe meglio parlare di sfruttamento del lavoro o addirittura strofinaggio del mondo del lavoro. La gente oggi viene messa sotto ricato, di tutto per cosa per mantenere una classe politica e dirigente che ha fatto solo danni e si è ingrassata alle spalle della popolazione. C'era tutto quello che hanno rubato, non se lo sono certo tenuto in Italia. Lo hanno portato all'estero, però questi personaggi vengono visti come la crema italiana. Io credo che questi siano dei delinquenti. Chiaramente l'unico mezzo che ho per dirlo è la musica e continuo a farlo. Sicuramente parla della realtà e dei problemi che ci sono attorno. Chiaramente è un genere musicale che non è nuovo, è stato inventato a metà anni, 70, però io lo ritengo ancora attualissimo e forse qua in Italia siamo solo all'inizio. Che in aeroporto ci sono delle ragazze molto belle, non capisco perché ci sia un concentrato così massiccio. Siamo simpatici, siamo simpatici, siamo un fiabruti, ma siamo simpatici. Noi veniamo dalla zona mezza morta, bisogna trovarla nella carta geografica. Ma cosa sta bruciando qua? Non so, comunque siamo molto contenti che vediate le nostre facce, perché così facciamo dispetto a quelli che le mostrano sempre. Riccione 97. Riccione ti sarà ti.